Bella ragazzi, qui Matt Eccoci oggi ritrovati con un live su MW3 Son tornato perchè il cinema di Black Ops 2 ha dei difetti grazie al bug che... Un attimo che devo mutare le persone I miei amici perchè ho le cuffie fanno un casino della madonna Right man un attacca Era dire, il bug che ti porta al 55 direttamente Andiamo un po' a catturare la bandiera Eh, ci ho provato E perciò la partita che volevo registrare non è disponibile Sarà la prossima Non posso farmi tanti problemi Devo fare il video Non avevo voglia di caricare delle mob oggi Cioè ho registrato delle mob che ho messo da parte Però sinceramente preferisco Giuro, non ho chiesto a nessuno di buttarmi i giubattini in tutte queste cose Eh, era dire Anche il ricognitore Che amori che sono i miei compagni Eh, era dire Ho cercato Di Registrare delle partite su Black Ops 2 E per il problema Per il bug Non si possono registrare Su MV3 ho registrato delle mob Però Preferivo Provare a fare una mob in live Per far capire un attimo Come si gestiscono gli spawn Cazzo Eh, volevo farvi vedere un po' come si fa a spawn trap Perché un mio amico me l'ha chiesto E perciò sono qui A proporvi questo video Sperando Oh, ma che cazzo Ma mi tirano tutto a me Boh Giochiamo un po' Un po' tranquilli però Perché comunque Già in live Non è facile Poi Se devo pure parlare Vediamo un po' Dov'è Migrazione host E andiamo Eh, sono io Perciò Mi va più che bene Adesso No vabbè Non è colpa mia Lo giuro Non ho fatto niente di male Vediamo un po' Dove sono Io l'ho detto Che facevo Spawn kill Perciò Non vi arrabbiate Con me Dai 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 Tranquillo Tanto Questi qua Mi sembrano abbastanza Scarsi Non li ho scelti Cioè Non ho cercato una sala Ho cercato soltanto Dome Poi se sono usciti Loro Non è colpa mia Se infatti Usano il lanciagranate Figurati se L'ho scelti Io Oh scusate Ma io devo entrare Merda Era meglio Che non entrava Quanto sto? A 13 Mara No Mara Sta usando assalto Perciò Andiamo un po' su A Facciamo il giro Che perlomeno Cerchiamo di fregarli Ah Sono sopra Sopra di me Vai ho france Però me li fotti tu Due Buona Giochiamo tranquilli Andiamo Dietro le auto Tanto non è che Devo fare la mob Bella al mondo Devo fare la mob E basta Tranquillità Intanto Dai 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 Sto A 19 Bravo Mara Ha chiuso lo spawn Ora Verranno tutti qui su B Infatti 20 Buono Buono Cavolo Paura vera No non capisco dove sono Mob in live Bene Raga Mob in live Raga Fatemi un attimo Ammazzare Oh ma Ok Fatemi un attimo Morire Per favore Ok Grazie Dai tranquillo Si tenta la doppia Però Sono abbastanza Sfortunato Sinceramente In sto Periodo C'è In sto periodo Sempre Sono stato sfigato Sono mai riuscito a fare una doppia Tra un po' Ne ho tirate tre Andiamo un po' a controllare Sono qua Infatti Ah Dai il tempo c'è Perciò Basta Ragionare un attimo Ovviamente Bisogna tenere Soltanto Cercare di tenere Anzi Soltanto A e B A e B O Scusate ma Dico tante stronzate Sono concentrato Sono Dai 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 Ce ne sono due lì Preferisco Dare sul sicuro Mi rubano Tutte le munizioni Mamma mia Heatmarker Pezzo di merda Ah vediamo Vediamo Scusate raga Se sto in silenzio Però Devo concentrarmi Anche tanto Stiamo perdendo Charlie Perciò Ok Non so Quanto sono Di fila Mettiamoci qua Un attimo Aspettiamo Che passino Vabbè Ma li fotton tutti Perciò Cambiamo lato Se capito Da dietro Perciò Grazie. Che figlio di puttana. Vabbè raga. I bimbi minchia italiani sono sempre i soliti. E dai raga. Mob in live comunque. Meglio che niente. Potevo prenderla benissimo la doppia. Bimbo minchia italiana in seconda chance. E 47.3. Non male. Per questo torna sempre su MW3. E raga dai. Ci si vede. Oggi è il 4. Perché. Perché non avevo voglia di farlo prima. Perciò. Oggi è il 4. Lo caricherò. Oggi stesso. Oppure il 5. Cioè domani. Vedo un attimo. Quanto tempo ci vuole. Il video è finito. Ci vediamo alla prossima. E bella. Cioè. Grazie a tutti.